Questa è via Fanella. Il primo parcheggio che c'è a disposizione di tutti gli abitanti di questa via è questo. Questo è il parcheggio che confina con Fano 2, Fano 2 è davanti. Questo è il parcheggio. Pensate se è una cosa ammissibile che si possa tenere un parcheggio in queste condizioni. Si scende dalla macchina, se non hai gli stivali qui, muori sommerso dal fango. È indescrivibile un stato di abbandono, di degrado. Non so più che parole aggiungere per mettere in evidenza un qualcosa che dovrebbe servire per i cittadini di Fano. Di fianco abbiamo il parcheggio delle fontanelle che è sempre occupato, poi tra l'altro c'è anche il mercato invertito e quindi non è utilizzabile. Due parcheggini piccolissimi dei quali questo qui è quanto. Grazie. 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 Grazie.